Comincia con un successo l'avventura di coccia Marco Evangelisti sulla panchina dell'Amen Scuola Baschettarezzo che riesce a piazzare il colpo esterno sul parquet di Prato e conquistare i primi due punti sulla pole B. L'inizio degli Amaranto è stato per la verità traumatico con la sba che subisce la partenza dei padroni di casa che con Magni in grande spolvero guida i suoi al 19 a 9 del primo quarto. L'Amen è in difficoltà in fase offensiva ed i padroni di casa premono sull'acceleratore con la coppia Danesi-Smecca che colpisce ripetutamente la difesa retina che sbanda e finisce sotto oltre 20 punti di scarto. Nel finale di secondo parziale i punti di Ghini e Calzini permettono alla sba di chiudere sotto 43 a 29. A rientro in campo dopo la pausa lunga L'Amen appare trasformata. I ragazzi di coach evangelisti mettono a referto 27 punti in 10 minuti grazie ad una difesa finalmente convincente che limita le bocche di fuoco pretesi. Pipisca comincia a prendere confidenza con il canestro ma tutta la squadra appare più incisiva in attacco. Dopo il 58-56 a favore dei locali al trentesimo l'inerzia della gara sembra cambiare sponda ma Prato non molla e reagisce alle triple di Pipisca e Castelli con Danesi e Magni. A Rezzo coinvolge anche Cutini ma Marini segna due canestri consecutivi che rimettono tutto in discussione. Nel finale concitato Rossi firma dalla lunetta il vantaggio 75-74 per L'Amen. Dall'altra parte gli aretini difendono forte e smecca perde un tiro dalla lunetta che finisce sul ferro su cui viene però ravvisato un fallo a tempo scaduto. Il giocatore locale sbaglia il primo tiro libero e segnando il secondo manda le due squadre al supplementare sul 75 pari. Nell'overtime la difesa aretina e le due triple di Pipisca e Rossi mettono la sbacola a testa avanti. Il giocatore slovacco segna i due tiri liberi con un più 3 a 19 secondi dal termine. Prato ha il possesso del pareggio ma la difesa aretina tiene e Cutini recupera il pallone decisivo lanciando il contropiede finalizzato da Pipisca che fissa il punteggio sull'89-84 finale. Una vittoria molto importante per il morale dell'Amescola Basket che comincia nel migliore dei modi questa seconda fase conquistando una vittoria in trasferta che ha un doppio valore. Adesso però gli Amaranto dovranno tornare a lavorare in palestra per preparare il prossimo appuntamento che sarà domenica 16 maggio al Palace Portestra contro la BC Ricami Montale.